Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Quest'oggi parleremo delle transizioni audio in Adobe Premiere argomento molto interessante perché impareremo come inserire le transizioni, le dissolvenze audio tra due clip audio contigue ma interessante soprattutto perché vedremo come sfruttare i tasti di scelta rapida da tastiera per fare operazioni lunghe e complesse con un click è importante e lo ripeto sempre quando si monta un video essere molto veloci e contemporaneamente molto precisi sono due cose che spesso non vanno molto d'accordo perché o si è molto veloci o si è molto precisi ecco un montatore video deve tendenzialmente cercare di essere sia veloce che preciso Come fare? Come fare? Ecco, utilizzare i tasti di scelta rapida da tastiera è sicuramente un modo per accelerare il lavoro mantenendo un buon livello di precisione e di professionalità Prima di iniziare però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete il corso completo di montaggio video con Adobe Premiere c'è l'elenco di tutti i tutorial fatti ecco, non è questo, è questo c'è l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora e anche di quelli che dovremo fare nelle prossime settimane come potete vedere siamo ormai giunti a ben oltre la metà del corso quindi se vi siete persi qualche lezione www.fabioambrosi.it cercate l'argomento che più vi interessa o se siete nuovi in Premiere io vi consiglio di iniziare dall'inizio, chiaramente così come vi consiglio anche di iscrivervi al mio canale YouTube dove potrete trovare anche lì tutti i tutorial fatti vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube anche perché nelle prossime settimane e nei prossimi mesi partiranno delle lezioni e più in là dei corsi dedicati a Photoshop, After Effects e Audition tre software fantastici e importantissimi per editare le fotografie per lavorare con gli effetti speciali, mettiamola così comunque con la grafica e con l'audio, tre software ovviamente firmati Adobe quindi www.fabioambrosi.it e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube ogni video lezione ha un articolo in fondo al quale c'è un campo che vi permette di commentare l'articolo stesso, fare domande e quant'altro ma non perdiamo altro tempo, passiamo ad Adobe Premiere eccoci in Adobe Premiere abbiamo già visto come inserire le transizioni video quando abbiamo parlato chiaramente delle transizioni video quindi oggi dobbiamo concentrarci sulle transizioni audio ma vi dico subito che il procedimento per inserire una transizione audio è praticamente identico a quello che abbiamo già visto per le transizioni video vado rapido in questa cosa se volete saperne di più andate indietro di diversi tutorial cercate le transizioni video in Adobe Premiere comunque per inserire una transizione audio con il mouse e senza utilizzare la tastiera quindi questo è il metodo che io sconsiglio per essere veloci è sufficiente cliccare sopra la transizione audio e trascinarla su un punto di montaggio tra due clip audio ovviamente nelle clip video come potete vedere non funziona c'è un segno di divieto mentre sulle clip audio ci è data la possibilità di inserire giustamente la transizione audio desiderata lasciamo il tasto sinistro del mouse e la transizione viene inserita come potete facilmente vedere potete spostarla, allargarla e fare tutte quelle operazioni che abbiamo già visto fare quando abbiamo parlato delle transizioni video in Adobe Premiere ma come vi ho anticipato nell'introduzione di questa lezione questo non è il metodo migliore per lavorare con le transizioni perché ipotizziamo di avere più tagli quindi ipotizziamo di avere un taglio qui ipotizziamo di avere un taglio qui ipotizziamo che vogliamo inserire una transizione audio o una transizione video ok? perché chiaramente il procedimento è lo stesso non su un unico taglio di montaggio su un unico punto di montaggio ma su tutti questi punti di montaggio come fare? ecco, l'operazione tradizionale che coinvolge il mouse e che abbiamo visto fino ad ora vorrebbe che per ogni transizione andiamo con il mouse, tasto sinistro, sopra la transizione rilasciamo e ancora tasto sinistro, sopra la transizione e rilasciamo e via via per tutte le transizioni anche le transizioni video è un metodo lento perché se avete poco tempo per fare questa operazione siete nei guai Premiere, come dicevo, ci permette di fare questa operazione utilizzando i tasti di scelta rapida da tastiera che cosa vuol dire? vuol dire che io posso selezionare tutti questi tagli premere due tastini sulla mia tastiera e in un colpo solo inserire o le transizioni audio o le transizioni video o sia transizioni audio sia transizioni video fantastico vediamo come fare allora, innanzitutto per fare questa operazione occorre selezionare tutti i punti di montaggio in cui vogliamo inserire una transizione audio o una transizione video se io vado a selezionare le clip in maniera tradizionale ovvero cliccando con il tasto sinistro del mouse e trascinando vedete che io vado a selezionare le clip non sto selezionando le transizioni che sono l'elemento che dobbiamo selezionare per inserire una transizione audio o una transizione video se volete selezionare solo le transizioni solo i punti di montaggio tra una clip e l'altra dovete tenere premuto il tasto control quindi tasto control della vostra tastiera premuto cliccare con il tasto sinistro del mouse e trascinare vedete che io non sto più selezionando le clip audio o video ma sto selezionando i punti di montaggio ecco in questo modo io posso a questo punto premere delle combinazioni di tasti sulla mia tastiera e scegliere se inserire o una transizione audio o una transizione video ossia una transizione audio che una transizione video iniziamo da quest'ultimo caso ipotizziamo che io voglia inserire sia una transizione audio sia una transizione video i tasti da premere sono shift D maiuscolo D premo bam ingrandisco perché altrimenti non si vede come potete vedere ogni taglio ha una transizione audio e una transizione video inserita tutto questo premendo semplicemente due tasti che mi sembra una cosa meravigliosa oh ipotizziamo che io adesso invece voglio inserire una transizione audio e non una transizione video quindi io seleziono i miei punti di montaggio è indifferente in questo caso se coinvolgo anche i punti di montaggio video perché la combinazione di tasti che sto per dirvi inserirà solo ed esclusivamente una transizione audio premete i tasti ctrl shift D quindi ctrl maiuscolo D e vedrete che saranno inserite soltanto transizioni audio esattamente l'operazione che io volevo fare infine ipotizziamo di voler inserire solo transizioni video e non transizioni audio come fare? tasto ctrl per selezionare i punti di montaggio premere il tasto ctrl D e come potete vedere sono stati inseriti soltanto dissolvenze transizioni video ripetiamo ricapitolando ctrl D inserisce solo una transizione video ctrl D ingrandiamo così si vede bene questa cosa ok dicevo ctrl D solo una transizione video rifacciamo e olè poi ctrl shift D inserisce solo una transizione audio mentre i tasti shift D inseriscono contemporaneamente una transizione audio e una transizione video oh imparateli bene questi tasti perché lo ripeto in contesti importanti quando dovrete applicare delle transizioni di solvenza più clip o comunque quando dovete lavorare velocemente l'unico modo per essere veloci e precisi è utilizzare la vostra tastiera quindi anche se all'inizio farete fatica a ricordare queste combinazioni il mio consiglio è di impararle bene a memoria ctrl D shift D ctrl shift D ok ovviamente queste transizioni possono essere spostate ridimensionate come abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle transizioni audio video in adobe premiere e anche rimosse basta selezionare la transizione premere il tasto canc e la transizione in un attimo va via però una domanda che può sorgere spontanea è ma la durata della transizione audio e della transizione video da cosa è gestita perché se io premo shift D e inserisco qui la transizione vedete che qui la transizione ha una durata standard ma ma magari io sto facendo un lavoro per cui la mia transizione tutte le mie transizioni devono essere molto veloci o molto più lente come fare per modificare la durata standard di una transizione inserita in adobe premiere pro allora andando nel pannello modifica preferenze quindi qui modifica preferenze abbiamo la possibilità come abbiamo già visto all'inizio di questo corso di modificare diversi aspetti delle impostazioni di premiere se andate nella voce timeline in fondo ovviamente si aprirà il pannello con le preferenze e in alto potete vedere che vi è data la possibilità di decidere quale deve essere la durata predefinita di una transizione video in questo caso 25 fotogrammi la durata predefinita di una transizione audio in questo caso un secondo oppure non lo abbiamo visto ma ve lo anticipo ve lo dico la durata predefinita delle immagini fisse in altre parole quando inserite importate una fotografia in premiere di default questa fotografia che chiaramente è statica non ha una durata predefinita nel tempo dura 5 secondi queste impostazioni possono essere modificate potrei dire a premiere che una transizione video deve durare non so 2 secondi o una transizione audio deve durare 12 fotogrammi do l'ok e guardate adesso se io vado a reimpostare le transizioni come abbiamo fatto prima quindi selezionando il punto di montaggio e premendo i tasti shift d ecco vedete che la transizione audio dura 12 frame mentre la transizione video durerà i 2 secondi che abbiamo indicato quindi per modificare la durata predefinita delle transizioni modifica preferenze timeline e a questo punto andare a modificare questi valori che io ovviamente andrò a rimpostare subito nella loro versione di default perché credo sia quella maggiormente utilizzata quando si monta però ripeto ogni progetto ha delle caratteristiche a se stanti altra cosa da vedere prima di concludere questa lezione molto molto importante bisogna rispondere ad una domanda che probabilmente alcuni di voi si staranno facendo quale transizione audio o video di default viene inserita quando utilizzo i tasti di scelta rapida da tastiera perché di default noi utilizziamo una transizione una dissolvenza ma premiere ha tantissime transizioni video tantissime transizioni audio oddio transizioni audio sicuramente molto meno ma moltissime transizioni video anche a pagamento anche di terze parti e quando io utilizzo i tassi di scelta rapida da tastiera magari non voglio inserire una classica dissolvenza magari voglio inserire una dissolvenza bianco magari voglio inserire una transizione particolare come impostare le transizioni predefinite in adobe premiere bene se guardate bene questo elemento vado ad ingrandirlo per una maggiore visibilità vicino al nome della dissolvenza della transizione in questo caso dissolvenza incrociata c'è un'icona alcune di queste icone hanno una bordatura azzurra hanno un'evidenziazione sono evidenziate ok questa cornice azzurra indica che questa transizione dissolvenza incrociata è la transizione di default ovvero la transizione che viene inserita di default quando utilizziamo i tasti di scelta rapida da tastiera ma come detto ipotizziamo che io voglio utilizzare la dissolvenza al bianco come dissolvenza di default quando utilizzo i tasti di scelta rapida come fare? bene basta selezionare la transizione che volete rendere predefinita cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere la voce imposta transizione selezionata come predefinita cliccateci sopra e vedete che la dissolvenza ecco no avevo sbagliato la dissolvenza al bianco diventa la dissolvenza predefinita vogliamo fare una prova del 9 vogliamo verificarlo bene selezioniamo il punto di montaggio premiamo i tasti ctrl d e abbiamo inserito la nostra ovviamente transizione se andiamo a mandare in play vedete che è stata inserita una classica transizione al bianco questo è molto importante vale per qualsiasi transizione anche di terze parti se volete cambiare la transizione predefinita tasto destro del mouse sopra il nome è imposta come dissolvenza imposta transizione selezionata come predefinita è tutto per quanto riguarda questo argomento nelle prossime lezioni continueremo a parlare di audio quindi riprenderemo l'argomento sul come creare un ottimo audio in Adobe Premiere Pro iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial commentate sia questi video su YouTube sia gli articoli che trovate sul sito www.fabioambrosi.it se avete domande se avete da fare precisazioni se volete aggiungere qualcosa se avete richieste particolari l'unica cosa che vi chiedo l'unica cortesia è cercate di essere coerenti con l'argomento del video o dell'articolo che state commentando molti mi stanno scrivendo chiedendo diciamo cose anche molto interessanti come lavorare con il 4K per esempio più avanti cercherò di fare un video in cui risponderò a tutti quanti coloro che mi hanno scritto in queste settimane chiedendomi consigli su come fare i DVD eccetera eccetera cercheremo di raccogliere un po' ecco di vostre domande e fare un video classico video domanda e risposta per il momento vi ringrazio al prossimo tutorial ciao